Buongiorno da Edo, oggi 6 giugno, quindi ieri c'è stato il World Wide Developer Conference, la conferenza di Apple dedicata agli sviluppatori, conferenza annuale che ripropone appunto le novità dei sistemi operativi di Apple, le novità soprattutto legate ai software di Apple e quindi non possiamo che dedicare l'intero buongiornissimo di oggi a questo evento che naturalmente era molto atteso per una cosa particolare che era stata già liccata nei mesi scorsi si sapeva perfettamente che Apple ieri sera avrebbe presentato il suo visore per la realtà aumentata e la realtà virtuale, una cosiddetta XR per comprenderle entrambe e abbiamo avuto quello che ci aspettavamo insieme a altri annunci, altre cose legate soprattutto al nuovo sistema operativi iOS 17, iPadOS 17 e al nuovo macOS Sonoma però queste sono passate in secondo piano perché la One More Thing di ieri sera è stata ovviamente spaziale e spaziale è proprio anche la parola chiave che va a connotare l'annuncio perché si parla proprio di Spatial Computing quando Apple si riferisce a Vision OS che è il sistema operativo che va a comandare il suo nuovo visore, il suo headset chiamato con poca fantasia devo dire, un nome che non ho apprezzato particolarmente Apple Vision Pro comunque andiamo a prendere l'elenco degli annunci di ieri sera più importanti perché non ne stiamo a prendere tutti però andiamo un po' a scorrere cosa ha detto Apple ieri sera usando, sfruttando un articolo di The Verge e andiamo un po' a fare una cernita quindi eccolo qua questo è l'articolone con i 10 biggest announcements di Apple al WWDC Worldwide Developer Conference e partiamo naturalmente da questo ragazzo qua cioè Vision Pro Vision Pro che peraltro visto che Apple mette Pro come suffisso ai suoi prodotti che hanno anche una versione base mi immagino che magari in futuro potrebbe anche uscire una versione non pro di Vision con qualche caratteristica in meno perché di pro in questo visore ci sono tante cose tra cui il prezzo perché si parla di, diciamolo subito, 3.500 dollari che al cambio probabilmente saranno più di 4.000 euro perché poi qua sono, mi pare, senza IVA senza le tasse sul mercato americano quindi aggiunta quello e aggiunto un cambio sfavorevole sicuramente andremo tra i 4.000 e i 4.500 in Italia e uscirà nella prima metà dell'anno prossimo almeno negli Stati Uniti poi vedremo in Europa e che cos'è questo Vision Pro quindi? beh andiamo, vediamolo sul sito di Apple guardatelo qua molto bellino bisogna dire la verità è molto bello io ho un Quest 2 mi piace molto la realtà virtuale mi piace molto vivere esperienze virtuali però questo oggetto è pensato per un tipo di uso diverso diverso da quello che ne faccio io diverso da quello che ne fa il pubblico attuale della realtà virtuale tant'è che Apple non ha mai parlato espressamente di VR di virtual reality e non ha fatto vedere esperienze di realtà virtuale ha parlato a un certo punto di videogiochi ha parlato di supporto a Unity però non li ha fatti vedere e non ha neanche un controller cioè il controllo che Apple si è figurata per questo visore è il controllo con le mani quindi hands tracking fatto ovviamente molto bene a quanto pare però non è pensato per un uso ludico con i classici controller della realtà virtuale ci si può usare un controller Bluetooth come un gamepad oppure mouse e tastiera però è un tipo di uso diverso da quello che siamo abituati a vedere con altri tipi di controller quindi la mossa di Apple e secondo me questa è stata davvero l'idea geniale di Apple l'idea che potrebbe svoltare anche una percezione di questo mercato non è di presentarlo come un visore per la realtà virtuale o per la realtà aumentata ma proprio come un sostituto di un computer o di vari schermi cioè quello che Apple fa è dire ai consumatori che invece di avere schermi giganti e meccanismi di input vari per questi schermi con questo visore e Vision OS che è il sistema operativo queste cose si possono sostituire con un tipo di approccio diverso cioè vedere app, finestre, widget e cose varie attorno a sé nel proprio campo visivo di diverse dimensioni peraltro perfettamente integrate nell'ambiente circostante i widget e le finestre reagiscono alla luce dell'ambiente proiettano ombre sono tangibili hanno uno spessore un qualcosa che si può vedere nella stanza e l'uso solo delle mani con le gesture delle dita naturalmente che possono scorrere i testi o ingrandire e spostare le finestre danno questo nuovo meccanismo di input che nonostante abbiamo già visto sui MetaQuest perché anche lì c'è il hands tracking e si possono comandare le finestre, i testi con le gesture delle mani però il tracking non è così preciso da consentire un totale controllo senza problemi i controlli sono ancora un po' problematici naturalmente stiamo parlando di un visore che costa 7 volte meno rispetto a questo comunque appunto dicevo la vera novità il vero punto di forza di questa comunicazione è non tanto cercare di prendere quelli che sono già utenti della realtà virtuale realtà aumentata ma prendere tutti gli altri che ancora non si sono buttati in questo mondo cercando di vendergli appunto un dispositivo che sia un sostituto dei loro computer quindi ha un prezzo alto però un prezzo che può consentirti di fare a meno di un MacBook Pro che è comunque un oggetto con un prezzo molto alto infatti la dotazione hardware di questo visore è di primissima fascia ha un processore M2 ha due schermi da più di 4K di pixel density per ogni occhio e ha un altro processore che si chiama R1 che è dedicato alla gestione del hands tracking degli input dell'ambiente circostante l'audio spaziale che anche questa è una caratteristica molto importante e interessante e poi naturalmente una serie di ulteriori sensori e ulteriori input sul visore che devo dire sono abbastanza intelligenti perché c'è una ghiera che se girata permette di aumentare o diminuire l'immersione dentro il mondo virtuale quindi proprio di aumentare o diminuire l'isolamento cioè si può coprire interamente nel proprio visuale con qualcosa di ricreato virtualmente oppure lasciare vedere il mondo circostante con gli oggetti creati in realtà aumentata e tra l'altro con una definizione enorme quindi Apple dice un testo un sito web un documento Office PowerPoint Word sono perfettamente nitidi i testi sono perfettamente nitidi si possono leggere come li leggereste su uno schermo potete guardare un film potete guardare la tv creandovi lo schermo della dimensione che preferite avendo la stessa percezione la stessa qualità visiva che avreste su uno schermo e questo naturalmente è un grandissimo selling point che potrebbe effettivamente vendere questo tipo di esperienza anche a chi oggi non è interessato a questo mondo ecco poi naturalmente Vision OS è un qualcosa che dovrebbe fare un salto naturalmente generazionale rispetto agli attuali stemi operativi per realtà virtuale aumentata naturalmente il competitor più vicino che può venire in mente è il MetaQuest Pro però non ha esattamente un sistema operativo dedicato a questo tipo di esperienza perché il MetaQuest Pro è più che altro una versione evoluta del Quest 2 ed è più che altro un marketplace dove installare applicazioni applicazioni sì certo per la produttività e per il lavoro però non è pensato come sostituto di un desktop di un computer ma più che altro come piattaforma dove lanciare applicazioni create ad hoc per AR e VR naturalmente ci sono anche i lati negativi che vanno citati due sostanzialmente il prezzo molto alto che naturalmente è una variera di ingresso notevole per chi vuole approcciarsi è un prezzo super premium stiamo parlando di appunto 3500 dollari più di 4000 euro sicuramente al cambio però è un prezzo in linea con i device di alto livello di Apple e l'altro aspetto negativo è la presenza della batteria esterna almeno io lo vedo come una cosa negativa la batteria è appunto una saponetta da tenere in tasca da quello che si è visto dai filmati con un cavo che esce dal fianco del visore dal cinturino e questo naturalmente mi pare un po' scomodo rispetto allo standard attuale che prevede visori con la batteria integrata o davanti o dietro insomma però comunque fissa sulla testa questo mi pare un po' un passo indietro però Apple avrà probabilmente studiato che la cosa migliore è avere meno peso in testa e invece avere questo cavetto che esce e ti permette di tenere questa batteria in tasca non lo so però c'è da dire anche che la batteria non è l'unico modo per alimentarlo si può alimentare dalla corrente da un Mac oppure da appunto dalla linea elettrica e quindi Apple dice se devi lavorare a una scrivania per lungo tempo o devi guardare un film seduto sul divano ecco la cosa migliore è farlo con il visore attaccato alla corrente quindi senza pensare alla scadenza della batteria e basta quindi questo era un po' l'Apple Vision naturalmente ci sarebbero tante altre cose da dire c'è il Eye Sight che consente a chi guarda voi che state indossando il visore di vedere proiettato sullo schermo di fronte il vostro sguardo i vostri occhi quindi non c'è un isolamento totale ma chi guarda capisce cosa state facendo cosa state guardando se state guardando lui o se state guardando qualcosa dentro il visore quindi questo effettivamente è molto comodo potrebbe anche qua togliere una barriera a quelli che si sentono troppo immersi troppo bloccati dentro il visore perché dà comunque un contatto con l'esterno che tra l'altro è anche assicurato dal fatto che quando una persona chissà se qua mette un filmato di questo non lo so ma quando una persona un'altra persona entra nel campo visivo del visore ecco che da dentro lui la fa vedere quindi momentaneamente interrompe l'immersione per far vedere che c'è una persona che vi si sta avvicinando vi si sta rivolgendo e questo anche è un modo per evitare l'isolamento totale che può spaventare molti che si approcciano in questo momento insomma tantissime cose sicuramente un qualcosa di non dico di rivoluzionario perché tante di queste cose le abbiamo già viste in altri visori però la densità dei pixel eccolo qua la persona che arriva e si fa vedere dentro dentro il visore comunque la quantità di sensori la definizione delle videocamere quindi la definizione del mondo esterno proiettato all'interno del visore che consente una realtà aumentata estremamente nitida estremamente immersiva il vision OS il vision S che è effettivamente questo concetto di spatial computing che potrebbe potrebbe essere qualcosa di importante e io direi adesso di andare avanti perché se no parliamo per un'ora solo di questo ci sarebbe tantissime altre cose a dire però qua facciamo un podcast dovrebbe essere un podcast di news veloci non tanto di approfondimenti quindi sicuramente avrete una marea di video o di testi di articoli su cui approfondire se volete andare a scandagliare ancora meglio tutte le caratteristiche e dettagli di questo visore questa era un po' la mia idea quello che io ho percepito ieri sera guardando e devo dire grazie Apple per non aver mai pronunciato la parola metaverso credo che nei servizi del TG1 di oggi qualcosa scapperà a meno che Apple abbia mandato dei diktat di evitarlo però grazie non ne potevamo più veramente è stato è stato un sollievo vedere che qualcuno sta pensando alla realtà aumentata e realtà virtuale non in relazione a un VR chat o un Horizon Worlds di meta ma un qualcosa di molto più tangibile e utile alla produttività e all'immersione comunque andiamo a vedere velocemente le altre news saltiamo quindi Vision S di cui abbiamo parlato ci sarà un MacBook Air da 15 pollici quindi un MacBook Air ancora più grande finora non c'era mai stato il massimo era stato il 13 di Air e quindi questo vuol dire che avremo un 15 pollici molto sottile molto leggero come è nelle caratteristiche di Air quindi effettivamente come Apple dice il PC il laptop dei 15 pollici più sottile del mondo poi mantiene le caratteristiche di MacBook Air quindi 18 ore di batteria eccetera eccetera costerà 1299 dollari ed è già possibile ordinarlo e poi abbiamo Mac Studio e Mac Pro che avranno un upgrade con M2 Ultra quindi sono stati presentati questi nuovi chip M2 Ultra e quindi sia Mac Studio che Mac Pro ora possono essere ordinati con questi nuovi chip che hanno fino a 24 core di CPU e fino a 76 core di GPU quindi saranno sicuramente super mega incredibilmente potenti e Mac Studio parte da 1999 dollari e il Mac Pro da 6999 anche qua prezzi interessanti poi andiamo a vedere una app per il mental health mental health su cui Apple si è soffermata un po' nelle presentazioni di ieri sera dicendo che appunto la ritiene importante tanto quanto la salute fisica la salute mentale e questa è una app che hanno presentato che si chiama Journal che fondamentalmente consente di tenere un log una traccia delle proprie sensazioni a riguardo di attività durante la giornata che sono tutte cose criptate che non verranno mai condivise con nessuno e rimarranno soltanto sul device va bene è un'app potenzialmente interessante che arriverà più tardi quest'anno separato naturalmente di iOS 17 alcune cose non novità clamorose molte widget devo dire si è parlato molto di widget sia su iOS che su iPad che anche su Mac si parla di widget anche su Watch OS si è parlato molto di widget comunque la cosa probabilmente più visibile la novità probabilmente più visibile di iOS 17 è lo stand by display mode quindi attaccando l'iPhone alla carica alla carica MagSafe e ruotandolo in orizzontale ecco che il display può diventare un always on con delle informazioni dei widget in questo caso fanno vedere l'orario per esempio o altri tipi di widget quindi rimane un display una sorta di sveglia di radiosveglia oppure di cornice virtuale ecco che rimane attiva con delle informazioni poi si può interagire con Siri eccetera eccetera rimane una novità abbastanza interessante poi dopo widget naturalmente per iPad OS 17 nuove widget widget interattive con interattività poco interessante e poi la presentazione del nuovo macOS Sonoma e anche qui widget widget ovunque widget che possono essere trasportate sul desktop quindi non solo relegate alla sidebar ma che è possibile proprio prendere trascinare e mettere sullo schermo e widget che sono anche che prendono anche i colori dello sfondo quindi si adattano allo sfondo per avere un'immersività ancora migliore con il proprio tema il nuovo tema di Sonoma così pieno di colori e naturalmente poi la serie di upgrade visuali e di nuove feature per Safari Safari ha avuto un piccolo spazio in cui ha parlato di nuove caratteristiche magari nei prossimi giorni faremo un episodio dedicato alle novità di Safari perché dal punto di vista dello sviluppatore web è un po' più interessante ecco e poi c'è questo nuovo game mode per macOS in cui praticamente i giochi quando vengono eseguiti vengono prioritizzati come task sul sistema operativo e quindi tutti gli altri task di background vengono messi in secondo piano e quindi fondamentalmente i giochi dovrebbero essere molti più responsivi avere più potere più cicli di clock insomma a disposizione e grande annuncio attenzione Death Stranding arriva su macOS Death Stranding un videogioco per pc e playstation che ha avuto un enorme successo negli scorsi anni e arriva anche su macOS sarà possibile giocarlo su macOS poi watchOS widget anche qui ci sono i widget di nuovo su watchOS ci sono anche modi per sfruttare utilizzarli con la ghiera hanno fatto vedere delle cose poco interessante l'ultima cosa ancora meno interessante per me è FaceTime su Apple TV è possibile prendere l'iPhone e fondamentalmente portare una sessione FaceTime sul schermo della TV mettere l'iPhone in carica con MagSafe e sfruttare la videocamera dell'iPhone e il microfono dell'iPhone ma vedere la gente in FaceTime sul grande schermo vabbè è una cosa interessante poi ci sono delle nuove API su questo che chiamate continuity camera quindi sarà possibile creare delle app che sfruttano questa camera e infatti hanno parlato di Zoom e WebEx con capability migliorate e diciamo che era un po' tutto dai abbiamo fatto un po' un recappone delle cose più interessanti partendo naturalmente dalla One More Thing che è poi la cosa principale di cui tutti parleranno per i giorni a venire e invidio molto quelli che hanno potuto vederlo e toccarlo e magari indossarlo in prima persona il Vision Pro io invece aspetterò che escano versioni abbordabili per noi esseri umani nel frattempo aspetterò il MetaQuest 3 che Zuckerberg ha annunciato con furbizia proprio due giorni prima e quindi alla fine dell'anno lo vedremo e sarà a un molto più umano prezzo di 500 euro naturalmente sono target diversi mercati diversi però insomma gran parte delle cose promesse da Apple si potranno fare anche con il Quest 3 e magari qualcuno penserà che la realtà aumentata virtuale è così interessante da meritare anche un ingresso magari docile favorevole con i MetaQuest quindi tutto di guadagnato per noi che già siamo dentro questo mondo a cui interessa vedere cosa si può sviluppare con un mercato con un bacino di utenze molto più ampio quindi staremo a vedere comunque è stato un bel annuncio mi è piaciuto questo Vision nonostante i problemi e nonostante il prezzo incredibile e quindi grazie per avermi seguito fino qui noi ci vedremo nei prossimi giorni adesso non so che cosa verrà fuori cosa ci sarà di interessante ma insomma noi saremo sempre qui al nuovo buongiornissimo e quindi buon martedì e buona settimana ciao